SVEGLIARSI CON LEI CHE MI OSSERVA Beh, mi sembra un sacrificio accettabile Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico Chimica per le masse Educazione, rieducazione per essere precisi Ma non è facile E non sempre funziona Mi faccio indovinare Avete una soluzione migliore Qual è allora? Non vorrà che glielo dica Non vorrà che glielo dica Ha dimenticato come funziona l'animus? Selezioni un ricordo dal menù di fronte a lei e iniziamo Usare le scale è un metodo socialmente accettabile per raggiungere un tetto Arrampicarsi sugli edifici non lo è Sono vivo Ma vi ho visto colpirmi? La morte mi ha preso Hai visto ciò che ho voluto che tu vedessi? E poi sei entrato nel sonno della morte Del greppo Così da risvegliarti E rinascere A quale fine? Ricordi Altair Per cosa combattono gli assassini La pace In ogni cosa Sì In ogni cosa Non basta arrestare la violenza di un uomo su un altro Si riferisce anche alla pace dentro di noi Non puoi avere l'una senza l'altra Così si dice? Così è! Ma tu figlio mio non hai trovato la pace interiore E purtroppo questo si vede Sei arrogante e presuntuoso Non siete stato voi a dire che niente è reale E che tutto è lecide Non comprendi il reale significato di questa frase figliuolo Essa non garantisce la libertà di fare come ti aggrada È una nozione che deve guidare i tuoi sensi Presuppone una saggezza di cui chiaramente difetti Allora che ne sarà di me? Dovrei ucciderti per le pene che ci hai causato Malik crede che sia giusto La tua vita è in cambio di quella di suo fratello Ma sarebbe uno spreco del mio tempo e del tuo talento Vedrai che sei stato privato dei tuoi averi Oltre che del rango Sei tornato un novizio Un bambino Come eri il giorno in cui ti sei unito al nostro ordine Ti sto offrendo l'occasione di redimerti Dovrai meritarti il rientro nella confraternita Presumo che abbiate in mente qualcosa Prima devi dimostrarmi che ti ricordi di come essere un assassino Un vero assassino Volete che uccida qualcuno? No Non ancora alveno Per il momento ritornerai a fare l'allievo Non ce n'è bisogno Sono un priore Eri un priore Altri rintracciavano le vittime per te Ma ora non più Oggi dovrai trovartele da solo Se questo è il vostro volere Lo è Allora ditemi che cosa devo fare Sono stato tradito Qualcuno stava aiutando Roberto di Sable Uno dei nostri Scopri dov'è e conducilo qui perché possa interrogarlo Cosa potete dirmi del traditore? Ah ma questo è quanto Ti ho già detto tutto Il resto sta a te Ero 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 Grazie a tutti. Salute e pace, Altair. Mi sbarri il passo? Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti, di ricordarti come si caccia una preda. So come si fa. Comunque sia, non intendo disobbedire. E allora sbrigati. Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione. Sì, sì, possiamo rigliare, borseggiare o usare la violenza per intimidire. Bravo, te ne ricordi. Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì, inizia il mercato del villaggio. È lì che l'abbiamo notato la prima volta. Tu sai chi è? Forse. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Non è così che funziona. Ora vai. E ricorda, inizia dal mercato del villaggio. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Può dirci il nome del complice di Masun? È scomparso. Si nasconde per timore di essere coinvolto. Ah, probabile che sia dentro una delle sue ceste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per favore, una sola. Abbiamo perso tutto nell'attacco e non abbiamo dove conservare il grano. Ora non posso. Sono occupato. Riguarda la lettera? Quale lettera? La lettera che hai ricevuto quando sono arrivata. Brutte notizie? Non so di che cosa parli. Ascolta, vedrò cosa posso fare. Ma adesso devo restare solo. Torna più tardi. Come vorrei. Come vorrei. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Vedo come mi guardate. Sento ciò che dici. Un traditore? Non sono io il traditore. È Al-Mualim che ci ha ingannato. Vedrete. Presto i vostri occhi saranno aperti alla verità Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo Un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari Ma quelli come Al Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno L'attacco di oggi non è stato che il primo E altri ne seguiranno se non vi pentite Abbandonate i costumi corrotti Ribellatevi contro il folle di Masyav Smascherate le sue menzogne Volete forse batterci? Basta! Mi arrendo! Mi arrendo! Parla in fretta dunque! Non mi interessano i tuoi giochetti Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari Anche tu dovresti! La loro causa è giusta! Noi? C'è un Ale chiamato Jamal Mi ha detto dei loro piani Mi ha chiesto di aprire la porta Ci hai tradito Noi che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto Ho fatto ciò che credevo giusto E se per questo devi uccidermi Che sia? Non ho paura di morire Non sta a me decidere del tuo destino Sarà Al Mualim a giudicare Avanzamento rapido a un ricordo più recente Sei accusato di aver tradito la confraternita Aprendo la strada ai nostri nemici Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla Sono fiero di ciò che ho fatto Mi spiace soltanto che abbiano fallito Ti offro l'occasione di pentirti Di rinunciare al male che hai nel cuore Nel mio cuore non c'è il male ma... La verità Io non mi pento Allora morirai Hai agito bene Altair E hai riottenuto il diritto di portare la spada Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Resta da vedere Alcuni fanno del male per ignoranza o paura Costoro si possono salvare Altri sono soggetti a desideri corrotti La loro mente è avvelenata e distorta Costoro devono essere annientati Presto sapremo che tipo di uomo è Jamal Ho superato la prova dunque E adesso? Oh figliuolo Abbiamo appena cominciato Ho qui un elenco Formato da nove nomi Nove uomini che devono morire Sono degli appestatori Dei guerra fondai Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra E assicurano la continuazione delle crociate Tu li troverai Li ucciderai Così facendo spargerai i semi della pace Sia per la regione sia per te stesso In questo modo potresti redimerti Nove vite in cambio della mia Un'offerta assai generosa, credo Hai qualche domanda? Solo dove devo iniziare Molto bene Recati a Damasco Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir Egli sia il primo a cadere Visita la dimora degli assassini Una volta in città Invierò un colombo per informare il rafficca del tuo arrivo Parla con lui Scoprirai che ha molto da offrire Se lo ritenete opportuno? Sì Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso È uno spreco di tempo È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori Come novizio Ora non devi rispondere solo a me Ma a tutta la confraternita Ebbene sia Prendi la tua roba e vai Dimostra che sei ancora uno di noi Perciò che è me Ciao a tutti Perciò che sei ancora uno di noi Perciò che è stato un po' Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada Potresti dar loro una dimostrazione? Perfetto! Che maestria! Perfetto! Questo ragazzi è come dovremmo tutti combattere Perfetto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.